Per vincere bisogna essere uniti! I 12 giocatori rappresentano le 12 stelle che ci sono nella bandiera dell'Unione Europea. Le 12 stelle rappresentano i primi 12 paesi che sono entrati a far parte dell'Unione Europea. Questi 12 paesi sono Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, Lari Marte, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna. Ci ha colpito molto il carteggio tra Freud e Einstein tra la prima e la seconda guerra mondiale intitolato Perché la guerra? Einstein disse che l'unica soluzione per evitare la guerra è che gli stati si affidino ad un'autorità superiore. Mentre Freud è che lo sport sublima l'aggressività. Quindi riteniamo che lo sport possa creare pace e unione tra i popoli. L'Unione Europea è nata nel 1957 da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Olanda. A seguire si sono aggregati i restanti 6 stati dei 12 precedentemente elencati. Dal 1995 al 2013 sono entrati a far parte dell'Unione Europea altri 16 nazioni, ovvero Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia. Grazie. 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 Grazie.